Benvenuti alla visione di questo tutorial di introduzione al sistema IvoBase della IvoClar VivaDent. Per mezzo del sistema IvoBase si realizzano protesi di elevata qualità e elevata compatibilità tessutale, in modo totalmente automatico e con compensazione della contrazione. Il materiale IvoBase utilizzato è disponibile in due varianti, IvoBase Hybrid ed IvoBase Ige Impact. Il presente video mostra l'utilizzo delle singole componenti del sistema evidenziandone le particolari caratteristiche. Per ulteriori informazioni si prega di consultare le istruzioni d'uso. La modellazione anatomica della protesi in cera deve preferibilmente corrispondere il più possibile al lavoro finito. In questo modo si risparmierà tempo nella fase di rifinitura. A seguito della prova, ricontrollare in articolatore il montaggio in cera. I punti di contatto centrici devono essere presenti. L'asta verticale dell'articolatore deve contattare il piatto incisale. Infine, sigillare la periferia delle protesi sul modello ed immergere il tutto in acqua per 5 minuti. Per l'isolamento delle superfici gesso-gesso, utilizzare l'apposito isolante separating fluid fornito. Per la preparazione della muffola si consiglia di isolare le pareti interne della muffola con un sottile strato di vaselina. Le due metà della muffola sono identiche. Entrambe sono utilizzabili sia come stampo che come controstampo. Inserire quindi il coperchio dello stampo, la metà del formacanale e, molto importante, la parte in cera del filtro, negli appositi spazi. Ora si potrà procedere nel mettere in muffola il modello in gesso. Utilizzate gesso duro di classe 3. Prestare attenzione a posizionare il modello al centro della muffola. La distanza della delimitazione anteriore del modello verso le pareti della muffola deve essere di circa 10 mm. Il bordo del modello nella zona del tubero e della ruga palatina dovrebbe trovarsi all'incirca all'altezza del bordo della muffola. Rimuovere il gesso in eccedenza in modo che tra il bordo del modello ed il bordo della muffola venga a formarsi un piano per mezzo del gesso. È particolarmente importante che la metà del formacanale sia completamente integrato nel gesso. In caso contrario, nel proseguimento della lavorazione, è possibile che le imperfezioni create nel gesso rendano la muffola permeabile. Dopo che il gesso è completamente indurito, sostituire il mezzo formacanale con quello intero. Ora è possibile adattare i canali di alimentazione in cera per l'iniezione sulla punta del formacanale e la superficie in gesso. Posizionare i canali, collocando il mediano al centro del palato ed i laterali nelle zone vestibolari dei due tuberi macellari. Prestare attenzione affinché i canali di iniezione aderiscano correttamente al gesso ed alla modellazione. Per arieggiare la cavità della muffola durante l'iniezione, apportare anteriormente in tutte le protesi dei canali di aerazione. Posizionare i canali in cera in modo da formare una connessione fra la modellazione in cera ed il filtro in cera. I canali di aerazione non devono essere a contatto con le pareti in metallo della muffola per garantire l'ermeticità della stessa. In caso di protesi totale inferiore, eliminare il canale di iniezione mediano e posizionare i canali laterali nelle zone linguali dei trigoni retromolari. In caso di riabilitazioni parziali, ogni sella della protesi viene dotata di un canale di iniezione e di un canale di aerazione. È possibile realizzare una mascherina in silicone che copra l'aggiunzione dente-cera in area cervicale sia vestibolare che linguale. Eventualmente è possibile coprire tutta la modellazione anatomica realizzata in cera con un silicone a reticolazione di addizione. La durezza del silicone dovrebbe essere di almeno 65 shore A. Prima dell'indurimento del silicone, a portare alla superficie trame ritentive, in tal modo la forma in silicone verrà ancorata in modo sicuro al controstampo. Fare attenzione affinché ampia parte delle superfici occlusali e di bordi incisali dei denti rimangano liberi da silicone. Anche il formacanale non deve essere coperto da silicone. Il rivestimento in silicone protegge i denti durante la smuffolatura e si risparmia tempo nella fase di rifinitura. Quindi isolare le superfici di contatto gesso-gesso. Chiudere quindi le due metà della muffola con gli appositi ganci di chiusura. Fare attenzione che i bordi della muffola siano puliti. Su un vibratore far colare il gesso di classe 3 miscelato nell'apertura della muffola fino al completo riempimento. Evitare di inglobare aria nel gesso. Eliminare con la spatola EvoBase il gesso in eccesso facendo in modo che non vi sia gesso oltre l'apertura della muffola. Dopo che il gesso è completamente indurito, riscaldare la muffola in bagno di acqua a circa 90 gradi centigradi per 5-8 minuti. In tal modo la cera all'apertura della muffola è ammorbidita e con un coltello per gesso si possono rimuovere semplicemente le parti di cera non liquefatte. Prelevare il formacanale. Eliminare le rimanenti parti di cera dalle superfici interne con abbondante acqua bollente e pulita. Utilizzare solo acqua pulita, senza additivi come detergenti o materiali per sciogliere la cera. Per un buon legame dei denti in resina con la resina per palati, i colletti dei denti ed i talloni devono assolutamente essere privi di cera. Dopo la detersione, irruvidire le superfici della base del dente con leggera sabbiatura oppure, in alternativa, con una fresa a taglio incrociato. Per ulteriori dettagli relativi alla lavorazione dei denti in resina, consultare le istruzioni d'uso del relativo produttore. Prima dell'isolamento, lasciare raffreddare all'aria o in acqua pulita le due metà della muffola finché si sia raggiunta una temperatura inferiore a 30 gradi centigradi. Per il controllo, utilizzare il termometro ad infrarossi fornito con l'apparecchio. Eliminare quindi gli eventuali residui di gesso, che aderiscono al bordo della muffola, alla spalla di isolamento, nonché nello spazio del filtro di areazione. Isolare le superfici in gesso pulite del modello con separating fluid. Evitare la formazione di accumuli, per esempio nelle rughe palatine o nei giunti periferici. Dopo 5 minuti, applicare un secondo strato di isolante. Prendere un filtro di areazione ed inserirlo nell'apposito spazio della muffola. Il bordo presente nell'imbuto serve come guarnizione durante l'iniezione sigillando stampo e contro stampo, guidando la resina nella direzione dell'iniezione. L'imbuto deve pertanto essere completamente circondato dal gesso per impedire una fuoriuscita di resina dalla muffola. Premere l'imbuto IvoBase nel centracapsule fino all'arresto e posizionarlo nello stampo. Fare attenzione che non rimangano residui di gesso nella zona di iniezione. Chiudere quindi le due metà della muffola con i ganci di chiusura. Una capsula è sufficiente per l'iniezione di una protesi totale superiore o inferiore. Per mezzo di un leggero getto d'aria fra contenitore di monomero e capsula, il contenitore del monomero è facilmente prelevabile. Impastare omogeneamente monomero e polimero con la spatola per circa 20-30 secondi. Fare attenzione che il materiale sia accuratamente miscelato. L'utilizzo dettagliato di IvoBase Injector è descritto nelle relative istruzioni d'uso. Dalla miscelazione del materiale fino all'avvio del programma di polimerizzazione non devono trascorrere più di 5 minuti. Posizionare la capsula già miscelata su una superficie piana. Posizionare il centracapsule con la muffola sulla capsula e premere. Non inclinare la muffola con la capsula per evitare una fuoriuscita di materiale. Inserire la muffola con la capsula fino all'arresto nell'apposito alloggiamento della camera di polimerizzazione. Per risultati ottimali con IvoBase Hybrid ed IvoBase High Impact sono stati sviluppati specifici programmi di polimerizzazione. P1 per IvoBase Hybrid e P2 per IvoBase High Impact. Per ridurre ulteriormente il contenuto di monomero residuo come opzione è possibile attivare il tasto RMR, scegliere il relativo programma e quindi avviarlo. Nel IvoBase, durante l'iniezione, l'aria defluisce in modo automatico e completo attraverso il filtro di areazione nella zona anteriore, finché la resina scorrendo sigilla il filtro e polimerizza. Questo è necessario perché nelle resine autopolimerizzanti durante il processo di iniezione non sempre è possibile la fuoriuscita dell'aria attraverso le microporosità del gesso. Al termine del programma viene avvertito un segnale acustico. Prelevare la muffola calda dall'apparecchio, utilizzare a tale scopo il guanto termico. Dopo il prelievo della muffola, l'iniettore è subito pronto per la prossima polimerizzazione. Raffreddare la muffola in acqua corrente fredda per almeno 15 minuti. Qualora la muffola venisse aperta troppo presto, si possono formare deformazioni della protesi. Il raffreddamento può avvenire anche direttamente nell'iniettore, per esempio durante la notte. Posizionare la muffola nella pressa, posizionando l'ausilio di smuffolatura fra il gesso del controstampo ed il piatto della pressa. Caricare con leggera pressione la pressa idraulica. Con un coltello per gesso, sollevare la parte superiore della muffola, facendo leva nella fessura fra stampo e controstampo. Girare la muffola e ripetere il procedimento. Prelevare il nucleo in gesso con la capsula e tagliare il canale di iniezione con un disco separatore, fresa o seghetto per gesso. La protesi si smuffola quindi come di consueto con pinza per gesso dal nucleo in gesso. Non utilizzare martelli per la smuffolatura per evitare di danneggiare la protesi. Grazie all'innovativo sistema e al processo di polimerizzazione a compensazione della polimerizzazione, non si presenta alcun rialzo occlusale. La superficie della resina corrisponde uno ad uno alla precedente modellazione in cera. La rifinitura del materiale IvoBase polimerizzato avviene come di consueto con frese in metallo duro, carta abrasiva e materiali per lucidatura. Per informazioni relative alle eventuali riparazioni, completamenti o ribasature, consultare le istruzioni d'uso.